Buonasera a tutti, bentornati a questo live sulla riabilitazione e sul mondo post ictus anche in questo periodo in cui ci troviamo tutti a casa alle prese con questo coronavirus soprattutto in questo periodo perché forse adesso più che mai è importante condividere conoscenze o informazioni su come poter affrontare la riabilitazione in casa. Ormai sono 16 anni da quando con il nostro paziente zero abbiamo iniziato questa esperienza di riabilitazione a distanza e adesso in questo momento è diventata quasi un'esigenza poter portare avanti la riabilitazione che è stata interrotta in maniera piuttosto drastica anche in casa, anche attraverso l'aiuto dei familiari quando è possibile. Allora oggi io approfitterei per poter rispondere ad alcune domande, dubbi che sempre abbiamo nei confronti della riabilitazione, cosa fare, cosa non fare, anche il significato di determinate problematiche che abbiamo in seguito ad un ictus, quindi la presenza di spasticità, la presenza di alcuni disturbi come disturbi della percezione, disturbi cognitivi, il neglect, la prassia, insomma tutti questi termini che magari quando li avete ascoltati dai professionisti in quel momento non li avete compresi da subito e magari possiamo parlarne in questa occasione. Parleremo di esercizi sicuramente, quindi farò del mio meglio per potervi mostrare o insegnare o spiegare degli esercizi da poter fare in casa, in modo tale che possiate mantenervi attivi anche se non avete la possibilità di fare riabilitazione e in modo tale anche che iniziate a comprendere un po' questa riabilitazione neurocognitiva. Il nostro lavoro di insegnare la riabilitazione neurocognitiva anche in famiglia nasce da diverse esigenze. La prima esigenza è quella di coinvolgere il familiare. Io lo dico sempre ai colleghi che il familiare deve essere coinvolto perché il familiare comunque, vuoi o non vuoi, delle attività le svolge con il paziente, tanto vale che svolga le attività che decidiamo noi e che siano in linea con il nostro progetto riabilitativo. E poi in seguito ad una lesione, ad un dramma come questo dell'ictus in famiglia si liberano, si sprigionano tantissime energie. È veramente una reazione nucleare a catena e queste energie devono essere convogliate nella direzione del recupero, altrimenti rischiano di creare dei problemi aggiuntivi. L'altra necessità che ci ha portato a democratizzare un po' questa riabilitazione neurocognitiva è proprio il fatto di veicolare un approccio di riabilitazione diverso rispetto a quello che siamo abituati a ricevere nelle varie strutture riabilitative. Adesso a queste due esigenze si unisce anche l'esigenza giocoforza di dover essere indipendenti a casa nel poter portare avanti il progetto riabilitativo. Allora io già vedo che si sono collegate diverse persone. Ciao Leonardo, ciao Paola. Senti Paola, non ho fatto in tempo a leggere il tuo messaggio. Ho capito che tempo fa avevi preso le videoguide e quindi avevi iniziato a fare degli esercizi in casa, ma adesso volevi andare avanti con degli esercizi ancora più specifici. Mi pare che mi hai chiesto degli esercizi per l'arto superiore. Adesso mi riguardo anche un po' il tuo commento e cerco di risponderti. Nel frattempo io ti invito a prendere contatto con tutto il team, quindi scriverci un'email, ti scrivo adesso anche qual è l'indirizzo, in modo tale che possiamo vederci online e vedere la situazione dal vivo, penso che se ci siamo visti sia passato del tempo, e da lì costruire un progetto che sia adatto alla vostra situazione specifica. Allora vorrei avere esercizi per l'arto superiore che stimolino la percezione del bravo, braccio, che va dalla scapola al gomito per permettere movimenti verso l'alto. Quindi ho capito, questa qui è l'esigenza che tanti pazienti mi dimostrano. No, no, vorrebbero imparare a sollevare il braccio più in alto. E giustamente tu fai un'osservazione anche corretta, no? Quello di coinvolgere la scapola. Allora cominciamo con un esercizio in questo senso, perché la scapola è un'articolazione molto complessa. Vediamo di ragionare un po'. Intanto su alcuni aspetti. Allora, normalmente quello che viene fatto dal punto di vista riabilitativo è cercare di scollare la scapola, sbloccare la scapola, come se si trattasse di un qualcosa di meccanico. O in realtà qualcosa di meccanico c'è, però dobbiamo ragionare in maniera anche un po' più neurocognitiva. Che cosa succede? Succede che la scapola, ecco vediamo un po', vi faccio vedere. La scapola è un osso piatto e la troviamo qui dietro. Ora, non è collegata a nessun punto qua dietro, se non davanti dalla clavicola. Quindi la scapola dietro è libera di poter scivolare in tantissime direzioni. Ora, però, a causa dell'incremento del tono di alcuni gruppi muscolari, la scapola si trova imbrigliata in una rete di muscoli che ne limitano il movimento. Allora che cosa succede? Succede che quando noi eseguiamo il movimento del braccio, ti faccio vedere meglio, quando eseguiamo il movimento del braccio fino a questa altezza, fino ai 60 gradi circa, il movimento avviene attraverso l'articolazione scapolo-omerale, ovvero la testa dell'omero, ok? La testa dell'omero ruota intorno a questo alloggiamento che si trova sull'osso della scapola. Ruotando non incontra fino a questo punto nessun ostacolo, quindi tanti pazienti riescono a fare il movimento fino a questa altezza. poi però il movimento da qui fino ad arrivare in alto è sempre più difficile. Perché? Perché guarda che cosa succede. Succede che la scapola, che ha questa parte finale dove viene alloggiata la testa dell'omero, a un certo punto, quando arriviamo a una certa altezza, circa ai 60 gradi, il movimento avviene attraverso la rotazione della scapola. Non è più una rotazione della testa dell'omero sulla glena. Avviene questa, guarda, vediamo un po' se si vede, quando alzo il braccio, poi avviene questa rotazione della scapola. Allora, qui dobbiamo aprire anche un'altra parentesi. Tante volte, spesso, il paziente emiplegico soffre di dolore alla spalla. E il dolore alla spalla, guarda caso, avviene sempre in quel periodo in cui ci troviamo a svolgere una fisioterapia piuttosto intensiva, dove il terapista cerca di mobilizzare la spalla in maniera forzata, quindi muovendo il braccio verso l'alto e aprendolo verso il lato. Che cosa succede? Succede che la scapola rimane ferma e noi cerchiamo di muovere il braccio verso l'alto creando un conflitto sull'articolazione e andando a generare tante piccole microlesioni che accentuano un processo infiammatorio già presente o lo creano. Allora, tante volte, quando ci troviamo di fronte a questo problema di dolore alla spalla, una delle prime indicazioni che diamo ai nostri pazienti è quello di limitare intanto queste mobilizzazioni passive di scollamento perché non sono in linea con le necessità del paziente. Invece, quando ci adoperiamo con degli esercizi che richiedono l'attenzione da parte del paziente e la percezione, che sono quelli che ci stai chiedendo te, allora vediamo una lente graduale riduzione del dolore fino in tantissime occasioni alla sparizione del dolore. Allora, adesso vediamo un po' quale può essere un esercizio per il movimento della scapola. Allora, come abbiamo visto, la scapola ha la possibilità, questo è ancora il libro di Pavlov che sta qui, allora Pavlov mi scuserà, il movimento della scapola può traslare in diverse direzioni sia dall'alto verso il basso che lateralmente ma anche in direzione diagonale. Allora, come produrre un'esperienza al paziente di movimento della scapola? L'altra volta credo che vi avevo parlato delle spugne. Adesso le spugne sono un sussidio utilizzato molto frequentemente, riabilitazione neurocognitiva, e vi spiego un po'. Allora, adesso magari sarà un po' difficile reperirle perché i negozi sono chiusi e le spedizioni anche non vi porteranno a casa il materiale. Però magari cerchiamo di trovare il modo per organizzarlo anche a casa. Intanto vi faccio vedere come dovrebbe essere il sussidio. Allora, le spugne che cosa sono? Sono dei cuscinetti di gomma piuma, la stessa gomma piuma che noi troviamo nei divani. Ok? Benissimo. Allora, andiamo dal nostro tappeziere di fiducia, chi non ne ha uno, e gli chiediamo di tagliarci dei cuscinetti di gomma piuma in questo modo. Quali misure? Io suggerisco queste misure perché si adattano a tanti esercizi diversi, esercizi per il piede, esercizi per l'arto superiore e anche esercizi per la schiena. Allora, queste qui sono le misure che suggerisco. 20 cm, 15 cm e 5 cm di altezza. Ora, il tappeziere che cosa ha? Ha diversi codici di densità delle spugne perché c'è chi vuole il divano più morbido e c'è chi vuole il divano più duro. Allora, loro li dividono per codici. Adesso gli codici non me li ricordo, però basta che andate lì, con un po' di pazienza vostra e del tappeziere, andate a sentire almeno 4 densità diverse, dalla più morbida, che può essere anche il memory, fino alla più rigida, in modo tale da poter offrire al paziente un'esperienza di riconoscimento di densità. E adesso vi spiego come fare. Allora, la scapola ha una forma più o meno triangolare con la punta rivolta verso il basso. Allora, noi che cosa facciamo? Con la nostra spugna andiamo a produrre delle pressioni in tutte le direzioni, quindi dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso, dall'interno verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno e anche dal basso verso l'alto. Possiamo fare anche la pressione da avanti verso dietro, in questo modo. Ora, se ho qualche foto dopo alla fine del live la condivido così possiamo vedere come eseguire l'esercizio. Qual è lo scopo dell'esercizio? Lo scopo dell'esercizio di base è che il paziente riconosca la diversa densità della spugna. Ora, come fa a riconoscere la diversa densità della spugna? In parte anche dal contatto, ma in parte anche dall'entità dello spostamento della scapola. Perché, se ci pensate bene, se noi abbiamo la spugna rigida e andiamo ad offrire una pressione, questa pressione verrà riprodotta totalmente sulla scapola. Quindi il movimento di scivolamento della scapola sarà maggiore. Mentre se ci troviamo a lavorare con una spugna morbida, sarà la spugna ad assorbire la pressione della nostra mano e quindi a riproporre alla scapola una pressione più leggera. Allora il paziente sulla base del movimento della scapola, se più o meno accentuato, sulla base della modificazione della propria scapola, è in grado di riconoscere se si tratta della spugna morbida o della spugna dura. Allora questo di base è un esercizio che aiuta il paziente a portare attenzione su una parte del corpo che, se ci pensiamo, è complessa non solo dal punto di vista anatomico e strutturale, ma anche dal punto di vista dell'esperienza del paziente stesso. Perché a me, se non mi dicevano i libri di anatomia che avevo una scapola, probabilmente neanche me ne accorgevo, perché è anche al di fuori del mio contatto visivo. Quindi è un'articolazione piuttosto difficile da costruirsi una rappresentazione. Quindi questo ci aiuta anche ad avere una rappresentazione di questa parte del corpo, ci aiuta attraverso l'attenzione a ridurre anche la tensione della muscolatura che si è creata, la spasticità dei muscoli, perché si riduce la spasticità dei muscoli. Nel live precedente, e non so se in questo live ve la farò ancora questa spiegazione, abbiamo visto come si creava questo problema della spasticità, perché riducendo la possibilità delle vie discendenti cerebrali di partecipare al controllo del movimento, il tratto periferico, quello che produce riflesso, si accentuava. Allora quando noi costringiamo, tra virgolette, il paziente a prestare attenzione al proprio corpo e a rispondere a queste domande, è come se stessimo costringendo il suo cervello a riprendere il controllo sul movimento. Sto brutalizzando uno dei fenomeni neurofisiologici più affascinanti del nostro corpo e del nostro movimento, mi perdonerete però serve per capirci un po' di più. Mi ricordo una volta ero andato a trovare un mio amico a Quarrata, vicino Firenze, e mi aveva detto che lì c'era una bella fabbrica di spugne, e allora ci ho passato tutta una mattinata col proprietario che è stato molto gentile, e lì ci siamo messi a toccare tutte queste spugne fino a ricavarne addirittura cinque di densità diverse. Quattro sono sufficienti per voi. Dico che è stato molto gentile questa persona perché tante volte invece in tante altre tappezzerie quasi mi hanno cacciato fuori a pedate perché pensavano che fosse un disadattato, e forse era vero, però in effetti mi dicevano guarda dimmi te lo regalo un divano, però non mi far tagliare questi pezzi di gomma piuma così che mi togli tutta una mattinata. Ecco trovatevi qualcuno che abbia un certo tipo di cuore, che capisca che vi serve non per giocare ma per fare riabilitazione e che vi serve per recuperare. Quindi Paola questo è uno degli esercizi, in più dopo ti scrivo l'email a cui devi scrivere così magari organizziamo anche in questo periodo in cui non puoi lavorare una riabilitazione in casa come stanno facendo tante altre persone. Ecco lo scrivo per tutti voi qui, l'email è questo e poi vi risponde Cristina e vi organizza per vederci online e per cominciare un percorso insieme. Benissimo, allora intanto abbiamo già visto un esercizio, vediamo un po' i primi commenti che comincio a vederne diversi. Ciao Leonardo, è un piacere vederti e sentirti, è un piacere mio Leonardo, ben trovato. Ciao Daniela, come sta andando Daniela? Mi ricordo molto bene di te Daniela, ci siamo visti a Roma durante il corso che abbiamo fatto, credo fosse la seconda edizione del corso che abbiamo fatto a Roma con Fisiovit ed era andato bene sai, mi ricordo che già cominciavi a controllare un po' la spasticità della mano e credo che tu poi adesso abbia fatto altri nuovi progressi. Poi c'è Laura, buonasera a tutti, Laura Fisio quindi sei una collega, buonasera collega, Raffaella pure te collega, ciao. Andrea, buonasera mi piacerebbe avere qualche esercizio sulla fascia oltre a quello già spiegato la scorsa settimana. Benissimo, allora la scorsa settimana che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un esercizio dove c'era il soggetto e quattro azioni diverse, quindi il bambino dorme, il bambino male e poi però scusa Andrea se tu mi chiedi un esercizio diverso da quello della settimana scorsa raccontami come andato, no? Intanto questo qui che avete fatto così so regolarmi anche sull'esercizio successivo. Allora, quello è una eventualità della comunicazione, poter distinguere fra una frase dove c'è un soggetto e diverse azioni. Il bambino, per chi non l'ha visto poi e si guardasse il live precedente, il bambino mangia, il bambino dorme, il bambino corre e il bambino gioca. Benissimo, adesso offriamo al nostro paziente un'eventualità comunicativa diversa dove l'azione è la stessa, ma cambia il soggetto. Allora mettiamo per esempio un cane che dorme, un gatto che dorme, un bambino che dorme, una bambina che dorme. Allora mettiamo il paziente nella condizione di dover prestare attenzione su un altro aspetto della comunicazione, che non è l'azione, perché quella rimane fissa, ma è il soggetto. Allora tante volte succede che quando parliamo con il nostro familiare sfuggono piccoli elementi, piccole istruzioni, un'istruzione che potrebbe essere il verbo, un'istruzione che potrebbe essere il soggetto o altre istruzioni che possono essere di tipo spaziale, se sopra, sotto, destra, e sinistra. Ecco con questo esercizio e poi appena finisco il live ti metto anche la scheda da stampare, puoi lavorare con diverse azioni, con la stessa azione ma diversi attori. E poi raccontami Andrea come è andata con la volta precedente. Nicola, ciao Valerio, ciao Nicola, Patrizia, ciao Patrizia, come sta Flavio? Cesara, buonasera a tutti e tutti, buonasera Valerio, vorrei chiederti come posso usare correttamente l'anca nel passo. Sollevo il quadrato dei lombi, che io non so nemmeno dov'è, come fai a sapere dov'è il quadrato dei lombi e non l'anca. Ah no, capito, ok, sollevi il fianco. Con me devi parlare così, come l'uomo della strada. In realtà non riesco ad identificare cosa devo sollevare e cosa no. Help. Allora signori, adesso facciamo un esperimento. È la mia passione, il cammino, la biomeccanica del cammino e la gate analysis è veramente la mia passione. E quindi ti faccio vedere un po'. Vediamo, vediamo, eh? Che cosa? Dammi un secondo che ti faccio vedere questo video. Allora, questo sono io. Vediamo un po'. Questo sono io l'anno scorso, quindi faceva freddo ancora inverno. Vediamo un po' se riesco a girare la telecamera. Eccola qua. Allora, benissimo. Eccoci qua. Allora, questo sono io che cammina. Andiamo ad analizzare il passo e che cosa succede nel caso dell'anca. Allora, quando noi ci troviamo in questa fase, che per gli addetti a lavori, così faccio pure un po' di comunicazione con i miei colleghi, eh? Allora, per gli addetti a lavori questo è il toe off, ovvero distacco delle dita e rappresenta il 60% del cammino. Che cosa significa 60% del cammino? Significa che il cammino si divide in 100%, ovvero lo 0% è questo dove arriviamo a contatto con il tallone. Il 100% è il contatto del tallone successivo, ok? Questo è il passo. Adesso, che cosa succede? Quando io arrivo in questo momento, già ho fatto il 60% del mio cammino, tutto il carico, che è la parte più abbondante del cammino. Ora, da qui in poi, che cosa deve succedere? Deve succedere, guarda cara Cesara, che il movimento è soprattutto, specialmente, della flessione dell'anca. Vedi, la mia anca si flette. Questo è un movimento molto difficile da fare. Perché è difficile? Per questa ragione, Cesara. Perché quando tu affronti il carico, purtroppo devi ingaggiare delle abilità che ancora non sono mature, probabilmente, e allora cerchi di rigidire tutta la gamba per sostenere il peso del corpo. Alcuni autori la chiamano sinergia estensoria, ovvero la gamba diventa sinergicamente tutta distesa. Ora, quando ci troviamo in questo momento, la grande difficoltà è quella di liberarsi da questa sinergia estensoria e iniziare ad innescare la flessione dell'arto inferiore. Quindi la flessione dell'anca, ma guarda anche la flessione del ginocchio. Questa è una delle grandi difficoltà che ha il paziente emiplegico. E come la sostituisce questa difficoltà? La sostituisce sollevando il fianco. Perché chiaramente se la gamba è tutta dritta, qui il piede rischierebbe di strisciare a terra. Allora, per non strisciarlo a terra, il paziente che cosa fa? Sceglie strategicamente di utilizzare il movimento a lui più economico da poter fare, che è il sollevamento del fianco. Allora, il mio suggerimento, e ti voglio dare anche un esercizio alla fine di questa spiegazione, è quella di concentrarci su questa fase dello stacco, aumentando la tua capacità di flettere il ginocchio. Un'altra cosa che dovrei dirti è che probabilmente all'inizio ci sarà un minimo di contatto del piede a terra. È chiaro che il paziente non lo accetta, questo strisciare del piede a terra, e cerca di sollevare il fianco a tutti i costi. Però dobbiamo anche renderci conto che se noi non rompiamo questa sinergia estensoria e non cominciamo a dimostrare dei movimenti più evoluti, quindi di flessione del ginocchio, questo strisciare del piede a terra non lo gestiremo mai in un movimento dove il piede comincia invece ad avere una certa quota sul suolo. Quindi ti vorrei far vedere anche un'altra cosa, guarda, visto che ci stanno pure anche altri colleghi, cerchiamo di vederlo in maniera un po' più tecnica, perché l'anca, quel fianco che si solleva, in effetti un minimo di sollevamento c'è là, non è che non c'è là. Allora vorrei fartelo vedere però. Questa è una cosa che anche quando la spieghiamo a lezione, sia ai ragazzi dell'università, sia ai colleghi nei corsi, non è molto molto facile. Però proviamo un po' a semplificarla il più possibile. Gate analysis, vediamo un po'. Ho il computer pieno di un sacco di roba. Allora, vediamo un po'. Gate analysis dovrebbe essere questo. Vediamo un po'. Speriamo, vediamo se siamo fortunati. Eccolo qua. No, non era questo. Emiplegic Gate. Questo è il bello della diretta. Ok. Allora, qui sicuramente ci siamo. Questo è il movimento dell'anca molto difficile. Adesso inizio a spiegarti. Ti ricordi che avevo detto al 60% c'è lo stacco del piede. Ecco, dal 60% del cammino fino al 100%, che è il contatto successivo, l'anca, che cosa fa? Il fianco, quel quadrato dei lombi che tu dicevi, si solleva. Ma si solleva fino a dove? Si solleva fino all'altezza dell'altro fianco. Ti faccio vedere una visione posteriore. Allora, guarda questa ragazza. Si trova al 60% del cammino, quindi nel momento dello stacco delle dita. Ora, la spina iliaca postero inferiore, eccola qui, si trova più bassa dell'altra spina iliaca. Quindi, nel momento dello stacco c'è un abbassamento del fianco, cosa che nel paziente emiplegico non avviene. Spina iliaca postero superiore, scusate. Allora, tu devi imparare questa cosa. Devi imparare, guarda, devi imparare che in questo momento dello stacco, devi sentire che il fianco si abbassi prima di tutto, per poter poi fare il movimento. Allora, una volta che il fianco si abbassa, poi c'è un certo sollevamento. Te lo faccio vedere da qui. Guarda come solleva. Allora, adesso il fianco è più basso e mano a mano che il piede va in avanti. Guarda che cosa succede al fianco. Si solleva fino ad arrivare parallelo alla stessa altezza dell'altro fianco. Quindi un certo sollevamento c'è. Solo che nel caso in cui la gamba risulta rigida e non avvengono queste flessioni, allora è il sollevamento esagerato. Allora, ci stiamo? Io spero che sia stato minimamente chiaro quello che ti stavo dicendo e però voglio darti un esercizio. Allora, uno esercizio, Cesare, Cesara, te l'avevo dato l'altra volta. Quindi guardati il live precedente dove spiegavamo quell'esercizio semplice di carico nelle varie direzioni del fianco. Ora te ne insegno un altro. Allora, in questo momento, ovvero dove il piede, mi pare sinistro il tuo, quello omiplegico, si trova dietro, un tuo terapista, un tuo familiare deve poterti fare delle flessioni del ginocchio diverse e tu devi riconoscerle. Allora, ti faccio il disegno. Dammi un secondo, eh? Allora, vabbè. Però mentre aspettate vi faccio vedere che lo disegno. questo è la prima flessione, la massima, che è quella che assomiglia di più al movimento che dovremmo eseguire il movimento fisiologico per poter fare poi il passo. Poi abbiamo una seconda, dove la flessione, come vedi, è minima. Poi abbiamo una terza. dove abbiamo la gamba completamente distesa. Allora, cominciamo con solo queste tre posizioni. Appena te la cavi bene, mettiamo delle posizioni intermedie. Allora, qui ho commesso un errore nel disegno. Chiedo scusa, perché la distanza fra i due passi deve rimanere invariata. La distanza fra i due piedi deve essere la stessa. Quindi noi non dobbiamo cambiare la posizione della gamba. Dovrebbe essere, ecco, in questo modo. Dobbiamo cambiare e variare solo la posizione del ginocchio. Questo lo possiamo chiamare in maniera molto creativa riconoscimento di flessioni del ginocchio. Molto semplice. Allora, tu in questo caso stai facendo due lavori. Un lavoro che è di riconoscimento, ma l'altro lavoro anche di lotta contro la tendenza della gamba di distendersi forzatamente. Allora stai vincendo in qualche modo la battaglia sulla spasticità dell'arto inferiore. Perché, Cesara, se non sei in grado di allentare la tensione della gamba, mentre stai ferma e mentre qualcuno ti aiuta a muovere la gamba, è difficile pensarlo di controllare il proprio arto inferiore in fase dinamica quando stiamo per camminare. Allora, Cesara, fammi sapere se sono stato minimamente chiaro su questo aspetto. Paola ci sta ascoltando, benissimo, e spero che l'esercizio Paola ti sia d'aiuto. Certo Paola, l'esercizio che tu ho appena spiegato, quello delle spugne, dal punto di vista della difficoltà di esecuzione, non è proprio il massimo per iniziare. Quindi io ti invito nuovamente a prendere contatto con noi, perché secondo me dobbiamo arrivarci gradualmente a questo delle spugne. Andrea, ciao Valerio, ciao Andrea e Nadia, collegati e ore, che piacere vederti. Piacere tutto mio, siete sempre presenti, vi seguo. Andrea stai facendo dei progressi incredibili nei confronti del cammino e secondo me ce la stai facendo. Grande lavoro anche te, Nadia. Leonardo, buonasera, ciao Nunzio. Ciao Valerio. Nunzio, come sta andando? Ho visto la mano che ci hai postato una foto, che era un po' più controllata rispetto a quello che avevamo visto durante la visita. Quindi pure con te credo che stiamo andando nella direzione corretta. Qualcuno di voi si chiederà perché, dove vedo tutte queste cose di questi pazienti. Allora noi abbiamo un gruppo che si chiama Support Group, gruppo di supporto. È un gruppo che è dedicato solo e esclusivamente ai pazienti, ai familiari e ai terapisti che seguono il nostro programma di riabilitazione a distanza. Quindi nel momento che un paziente decide di procedere con il nostro aiuto, noi lo inseriamo in questo gruppo che è una sorta di clinica virtuale. Ora ovviamente non la posso far vedere questa perché è come se fosse una clinica. Uno non è che può entrare in una clinica e sbirciare quello che succede in palestra. Però quello è il nostro modo per portare avanti una riabilitazione a distanza. Vi racconto che succedeva. Succedeva che quando ho iniziato, ho mostrato i primi passi nella teleriabilitazione. Allora venivano i pazienti, i familiari e i terapisti anche da diverse città, non solo da Roma. Allora io gli davo un programma di lavoro e li vedevo il mese successivo. Solo che succedeva che andavano bene, c'erano dei miglioramenti, loro erano contenti. Però io no. No perché vedevo nella loro esecuzione degli errori che sapevo potevano essere corretti se potevo intervenire in maniera più tempestiva. Allora capirai, era il 2007, 2008. Io gli chiedevo di inviarmi dei video tramite email. Però c'era chi non aveva l'account email. I video pesavano tonnellate di megabyte, era impossibile inviarli via email. Allora eravamo un po' fregati. Fino a quando Marchetto Zuckerberg ci ha inventato questa bella piattaforma che è Facebook. Allora lì l'idea è arrivata quasi naturalmente. creare un gruppo, nel frattempo pure Steve Jobs ha fatto la sua, si è inventato questi smartphone e allora i pazienti con i familiari in casa prendevano gli esercizi che gli davamo noi, iniziavano a fare dei brevi video di come seguivano gli esercizi. E lì tutti i giorni noi stavamo lì a guardare i video e a dargli le correzioni, come se fossimo a casa insieme a loro. E questo gruppo adesso che ha circa 250 persone, un po' da tutto il mondo, è un casino di video, ne pubblicano uno al minuto. Tra l'altro è una delle librerie più grandi di esercizi di riabilitazione neurocognitiva. E tutti noi stiamo lì che cerchiamo di dare le correzioni e comunque impariamo le problematiche del paziente anche se ci troviamo a distanza. Molti dei, non se per esempio, non ti ho mai visto fisicamente, ci siamo visti solo online. Ecco, perché dico questo? Visto che ci sono anche dei colleghi collegati, questo coronavirus in qualche modo produrrà dei cambiamenti, produrrà dei cambiamenti in tanti sensi, anche personali. No, a un certo punto ho finito tutto, credo che chi uscirà da questa reclusione di casa si farà pure delle domande personali. Ma com'era la mia vita prima di questa reclusione? Ma veramente aveva senso questa ruota del topo, no? Svegliarsi la mattina sempre alla stessa ora, fare sempre le stesse cose in maniera rutinaria. Quindi secondo me ci saranno un sacco di persone che daranno fuori di matto in senso buono, nel senso che rivedranno alcune priorità della loro vita e cercheranno di ricostruirsi una vita che abbia un senso diverso rispetto a quello che si erano costruiti. Questo coronavirus, attenzione, io ne parlo in maniera leggera, però chi sta nel gruppo Ictus ha visto l'intervista che ho fatto al medico di rianimazione di uno degli ospedali del nord più in crisi del mondo, non d'Italia. Quindi sappiamo che dietro questo coronavirus, sì, c'è qualcuno che vedrà la vita sotto un'altra lente, ma c'è qualcuno che ha perso un proprio caro, c'è qualcuno che ci ha rimesso le penne, c'è qualcuno che tutti i giorni in trincea, anche fisioterapisti che lavorano in respiratoria, infermieri, medici di rianimazione, stanno facendo delle imprese incredibili che stanno permettendo a noi di svolgere solo un compito che ci è richiesto, quello di stare a casa e quindi quello che stiamo facendo. Ora, chiaramente, stando a casa c'è chi fa quel che può, quello che posso fare io in questo momento è comunicare con voi, è quello magari di intrattenervi un'oretta, insegnarvi qualcosa e anche imparare qualcosa da voi e quindi ne parliamo in maniera leggera, sempre consapevoli che comunque questa grande emergenza mondiale ci sta segnando. Ora, insieme a questi gravi segni che ci porteremo dietro, probabilmente ci porteremo dietro dei cambiamenti, anche nel nostro lavoro. Ora, io ho cominciato nel 2004, ma chissà, forse perché non sono mai stato normale dal punto di vista cognitivo, per quello faccio riabilitazione neurocognitiva e ho sempre puntato su questo lavoro della teleriabilitazione. Però probabilmente, vedete cari colleghi, adesso più che mai tutti i vostri pazienti che sono rimasti in casa, probabilmente avrebbero anche bisogno di una modalità di contatto col vostro lavoro per poter essere seguiti. Sì, può essere una telefonata, ok. Può essere anche un contatto via Skype, una videochiamata con WhatsApp. Però se strutturiamo anche un modo per poter codificare il nostro lavoro in modo tale che possa essere eseguito anche da casa, secondo me non stiamo togliendo niente alla nostra professione, anzi la stiamo arricchendo e stiamo dando l'opportunità a tante persone di poter svolgere il lavoro, anche limitando gli spostamenti, limitando i rischi, limitando i costi. Secondo me questo della teleriabilitazione, prima magari era qualcosa che sembrava lontano dalle nostre possibilità, però adesso più che mai lo vedo come una scelta che ci porteremo dietro, studenti, poi un'altra cosa, lo stavo dicendo a mio nipote che è come un leone in gabbia adesso, perché lui è un calciatore e quindi molto disciplinato negli allenamenti, stavano ben posizionati in classifica, quindi veramente una brutta cosa questo di fermarsi con gli allenamenti, però io gli ho detto tu continua ad allenarti, perché? Perché alla riapertura del campionato chi vincerà? Vincerà chi ha saputo adattarsi e chi ha saputo mantenersi in allenamento anche mentre il campionato era fermo. Quindi anche noi cari pazienti o cari colleghi è proprio in questo momento che dobbiamo dimostrare la nostra abilità di di mantenerci in allenamento, perché io ritengo pure che se il fermo, la costrizione che abbiamo adesso ci fa limitare totalmente nel nostro recupero significa che neanche prima quando stavamo col nostro terapista avevamo grandi abilità o grandi possibilità di recuperare alla grande, perché significa che non avevamo una certa autonomia nel discorso del recupero. Quindi adesso più che mai dimostriamo di avere questa possibilità di autoprodurci del recupero e di adattarci alle avversità. Ok, fatto il sermone? Va bene, pure vestito di nero mi manca la fascetta bianca. Allora, Novella dice non sento più nulla, speriamo che ci siamo ancora, sono riuscito a capire e sentire la scapola dopo circa due anni di neurocognitiva, prima della spalla al fianco per me era un pezzo unico, esattamente, è questo che succede in effetti. Novella, adesso ci sei, Andrea, è utile per quanto tempo nell'arca della giornata portare ortesi, reggi braccio o reggi spalla? Bella domanda Andrea. Allora, parliamo un po' di questi ortesi, reggi braccio e reggi spalla. Allora, innanzitutto perché abbiamo bisogno del reggi braccio e del reggi spalla? Io lo so perché, perché ti è stato detto che c'è un problema di sublussazione e allora c'è la necessità di portare questo reggi braccio e reggi spalla. Adesso, quando noi ci troviamo ad affrontare una emiparesi e quindi una limitazione del movimento del nostro braccio, ci troviamo ad affrontare anche che è cambiata la situazione di alcuni muscoli, alcuni sono ipertonici, sono rigidi come questo qui, questo del petto, il gomito, però altri sono un po' più rilasciati, come quelli che ci permettono il sollevamento della spalla. Allora ci troviamo ad affrontare un distaccamento della testa dell'omero dalla glena della scapola di un paio di centimetri. Ora, questo distaccamento è visibile anche ad occhio nudo, quando vediamo il paziente nudo c'è proprio questo buchetto qui in questa zona, un segno che si chiama segno della spallina. Ora, non c'è paziente che non abbia questo segno, non ti dico normale, ma è compatibile con quello che è successo ed è anche chiaro che se fai una radiografia ti trovi un distanziamento, distanziamento che viene classificato come sublussazione, ma non significa che ti sta accadendo il braccio. Allora, se tu metti questo tutore, sì, probabilmente, se lo metti bene e non tutti lo mettono, probabilmente stai riavvicinando la testa dell'omero sulla glena. Quando togli il tutore, stai nella stessa situazione di prima. Eh sì, però poi questo problema si aggrava. Vediamo che cosa è più grave. Noi ci troviamo di fronte a un paziente che, come dice, come ci ha scritto, mannaggia, io non riesco a leggere poi i commenti precedenti. Come ci ha scritto Daniela, no? Dopo due anni di neurocognitiva mi sono accorta di avere una scapola, se no per me prima era tutto un pezzo unico. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che il problema in seguito ad una lesione cerebrale non è solo l'assenza di movimento, ma è anche la difficoltà di interagire, di percepire, di avere una rappresentazione di questa parte del corpo, di starci attenti. Avete mai sentito parlare di neglect? Penso proprio di sì, no? Quelle persone che hanno difficoltà a prestare attenzione a quello che capita nella sinistra, ma non solo sinistra dello spazio, sinistra anche del corpo. Allora tu a questo paziente gli metti il, a parte no, se tu mi hai chiesto dell'afasia, non è un problema di neglect come lo conosciamo, però c'è sempre un problema di attenzione e di percezione del braccio. Gli metti questo fagotto, il braccio se lo dimentica e non ha l'opportunità di fare nessun tipo di esperienza con questo braccio. Quindi per me il tutore, io ogni volta che lo vedo nei miei pazienti, lo prendo e lo tolgo. Perché poi tu dici, ma sì, ma quando cammina poi c'è il problema. Ok, ma quanto cammini? Quanto cammini? Farai pochi metri durante la giornata e il braccio non ti cade se non metti il tutore. Però poi il tutore non lo metti solo quando cammini, lo metti anche quando stai a vederti il programma televisivo sul divano, quando stai nelle altre situazioni e quindi il braccio. È proprio difficile da recuperarlo se lo teniamo in questo fagotto. Questo è vero per i tutori che hanno l'intento di correggere questa sublustazione e che non la correggono. L'altro tutore, che però ti dico proprio no, buttalo subito, ma senza nemmeno ragionarci, è lo splint per la mano. Questo è tremendo. A me dispiace buttarlo, ma io lo butto veramente quando incontro i pazienti nello studio, perché magari l'hanno pagato, hanno speso soldi e quant'altro. Allora, sempre Pavlov ci aiuta. Scusa, Ivan. pazienti che hanno la mano su questa tavoletta rigida e poi viene legata. Mi sembra un'idea poco brillante. Eh vabbè, però la mano sta chiusa durante il giorno, perlomeno sta aperta. Sì, tu la vedi chiusa e l'hai messa aperta, ma che cosa è cambiato internamente nella mano? I muscoli sono rigidi e tesi. Quando la mano è chiusa, sono altrettanto rigidi e tesi, se non di più, quando la mano sta aperta. Non è che la mano quando sta aperta sta morbida e rilassata. Allora, questo tutore, a parte che a me è raro vedere un paziente che ha il tutore, perché è il paziente stesso che prende e lo butta, perché non lo sopporta. È qualcosa di insopportabile, soprattutto l'estate. Fa male, dà fastidio. Immaginiamo la mano che sta tutto il giorno, o poche ore al giorno, con questa grande pressione. La tendenza a chiudere è sempre presente verso la flessione e questa tavoletta che invece sopprime il movimento. Vi racconto un piccolo aneddoto per comprendere la natura dello splint. Stavo sempre a Roma ed erano i primi anni della teleriabilitazione. Mi chiamo un paziente da Vercelli, quindi da lontano, però ero ormai abituato a ricevere persone da altre città e mi chiedevo, vabbè, ma perché mi hai chiamato? Beh, perché voglio farti vedere mia moglie. Ok, portala, vediamola. Sì, però il problema è che sono vent'anni che ha avuto l'ictus. Non mi era mai capitato ad avere un paziente a così larga distanza dall'evento, vent'anni. Mi era capitato dieci anni, otto anni, c'erano stati dei miglioramenti, però vent'anni onestamente gli ho detto, vabbè, sai, allora non ti so dire, io te lo dico in maniera molto onesta, vent'anni non mi è mai capitato, non so nemmeno che cosa mi troverò di fronte, quindi vedi tu, è un viaggio piuttosto lungo e impegnativo. Lì per fortuna questo marito mi ha messo lui a mio agio perché mi ha detto, ma no, ma tranquilla, a Roma abbiamo un sacco d'amici, ho fatto il militare lì, quindi sarà una gita e in più vediamo te. Eh vabbè, allora se la metti così, come gita, venite e vi visito con piacere. Vedo questa paziente che era giovane, no, perché aveva circa 50 anni, quindi l'ictus ce l'aveva avuto ancora più giovane, a 30 anni. Il cammino era, diciamo, normale di una paziente che non aveva fatto un grandissimo lavoro, quindi che camminava sollevando il fianco, come dice Cesara, il quadrato dei lombi, come col piede che supinava un po' all'arrivo, insomma un cammino come siamo abituati a vederlo. Il braccio pure non era così strano, no, era un braccio comunque flesso al gomito, la mano invece era molto strana. La mano era piena di piccole deformità, le articolazioni se ne andavano un po' da tutte le parti. E lì poi mi ha raccontato che aveva tenuto lo splint per tantissimo tempo. Quindi immaginate queste articolazioni della mano, che sono molto piccole, se sottoposte ad una pressione costante durante il giorno e durante i giorni, possano iniziare a sfiancare, possano iniziare a deformarsi. Allora da lì ho cominciato a rivolgere la mia attenzione su questi piccoli aspetti della mano, come cambiava la mano il rapporto all'utilizzo di questi splint. Ora, non c'è nessuna statistica ufficiale né basata sull'evidenza, è solo basata sull'esperienza del professionista. Però ho cominciato a vedere che la mano soffre anche dal punto di vista meccanico, quando la sottoponiamo a questa piccola tortura. E poi un'altra cosa, ma scusa, ma la mano è proprio un organo che ci deve permettere di entrare in rapporto col mondo, anche se non la muoviamo, però deve essere sottoposta a delle esperienze di contatto. E invece noi la mettiamo dentro questo panino e ce la dimentichiamo. Allora non è una grande scelta, è preferibile magari che noi mettiamo la mano su un cuscino, chiediamo al paziente di gestirsela, piuttosto che metterla in un splint. Spero di aver risposto, forse anche in maniera fin troppo prolissa, alla tua domanda. Allora, Daniela dice, sì, sì, è vero, è vero, è una tortura, io l'ho buttato. Io devo chiamare Mark Zuckerberg e devo chiedergli come si fa a leggere i commenti precedenti. Allora, Laura dice, possiamo rivedere degli esercizi per il recupero della mano? Grazie. Certo, Laura. Allora, abbiamo visto nel live precedente un esercizio di riconoscimento delle dita, molto semplice, base. Bene. Abbiamo visto l'esercizio dei regoli. Bene. Abbiamo visto l'esercizio, eccolo qui, delle superfici tattili. Ve le ricordate, no? Queste superfici tattili da riconoscere, molto bene. Adesso ne facciamo un altro, perché la mano non è solo dita. Guardiamola un po', la mano. La mano non è fatta di solo dita, anzi, c'è questa parte, che è piuttosto ampia della mano, che è il palmo. Ora, il palmo è molto complessa come struttura. E il palmo, se ci facciamo caso, in seguito ad una lesione cerebrale, soffre insieme alle dita. Quindi ci troviamo con questo palmo che sta particolarmente contratto. Allora, quando noi entriamo in rapporto con un oggetto, prendiamo un oggetto qualsiasi, che tutti quanti avete a casa, un cervello. Scherzo. Allora, prendiamo questo cervelletto. Eccolo qua. Si è smontato il cervello, ragazzi, è un problema. Allora, prendiamo questo cervelletto, ok? Se io devo prendere il cervelletto, che cosa sto facendo? Eh, sto utilizzando il mio palmo e le mie dita. Quindi le dita entrano in rapporto con l'oggetto, ma anche il palmo entra in rapporto con l'oggetto. Quindi noi dobbiamo cercare di facilitare il paziente a creare questo rapporto fra dita, oggetto e palmo. Allora ve ne insegno un altro di esercizio. Mi sono dimenticato un'altra volta di portare i regoli. Va bene. Utilizziamo un po' di immagine, di immaginazione. Allora, prendiamo questi regoli che hanno delle dimensioni diverse. Abbiamo questo che è più piccolino, questo che addirittura è più lungo. Abbiamo diversi regoli. Allora, con un paziente che ha già tenuto sotto controllo, già sta tenendo sotto controllo la reazione abnorma allo stiramento, quindi si trova con una mano un po' più gestibile, possiamo cominciare a chiedergli di riconoscere il regolo, non più fra due dita, ma fra il polpastrello di un dito e la base del palmo. E puoi cominciare, Laura, anche solo con un dito. Benissimo. Poi, quando il paziente è diventato bravo a riconoscere il rapporto fra polpastrello e palmo, cominciamo a coinvolgere anche due dita contemporaneamente, quindi gli puoi far sentire due regoli in questo modo. Potrebbe essere anche un regolo molto più piccolino e via via vai a coinvolgere anche le altre dita della mano. Questo è un esercizio a mio avviso piuttosto interessante perché mette insieme anche, mette in campo un contenuto importantissimo secondo me, ovvero quello dello sviluppo dell'attenzione divisa del paziente, la capacità di dividere l'attenzione su più parti del corpo contemporaneamente. E poi, se ci facciamo caso, gli esercizi per il palmo ne abbiamo di meno rispetto a quelli che offriamo al paziente nei confronti delle dita, quindi è anche un risarcimento nei confronti del palmo. Allora, vediamo un po'. Il polso è il nostro grande problema. Andrea, sì, sì Andrea. Hai un polso, sì, da medaglia d'oro veramente, un polso da Guinness dei Primati, davvero. So che stai facendo tantissimi esercizi con il polso, magari se permetti posso raccontarne uno di quelli che già stai facendo ai nostri amici a casa, così anche loro possono iniziare a farlo. Però tu devi continuare a fare quelli che ti stiamo dando noi, perché comunque abbiamo visto anche che c'è una certa riduzione della tensione, ma anche il gomito è piuttosto compromesso. Però stiamo vedendo che si sta, guarda, veramente un millimetro a settimana, però mi sembra che tu lo stia controllando questo fenomeno. Vediamo un esercizio per il polso. Allora, l'altra volta, l'altra volta vi stavo raccontando un esercizio per la caviglia. Vi ricordate? E se non ve lo ricordate vi guardate live. Allora che avevamo messo? Facciamo il disegno. Avevamo messo. Allora, noi mettiamo un'altezza che potrebbero essere, se le abbiamo rimediate, già due spugne, due spugne rigide, qui. Poi mettiamo una bottiglia, una bottiglia davanti, una bottiglia che potrebbe essere di plastica, ok? Su questa bottiglia poi metteremo, disegneremo dei punti di riferimento. Allora, qui noi ci mettiamo l'avambraccio del paziente, eccolo qui, e qui ci sarà il polso. Scusate, già non riesco a fare due cose contemporaneamente, figuriamoci riprendere e vedere. Allora, qui ci mettiamo il polso, eccolo qui, la mano del paziente. Benissimo. Ora, sicuramente qui ci sarà anche la mano però del terapista, eccolo qua, il terapista, che dovrà muoverla delicatamente verso l'alto o verso il basso. Allora, quando la mano sta verso il basso, qua, noi sappiamo che ci troviamo a questa posizione. Quando la portiamo verso l'alto ci troveremo in questa posizione, magari la quattro, qui tre e qui due. Mettiamo a pari distanza ogni punto di riferimento. Allora, il paziente sicuramente si trova con gli occhi chiusi e deve riconoscere in che posizione si trova la mano. Ora, quello che succede è che dobbiamo sempre rispettare la tensione muscolare del paziente. Infatti, se noi arriviamo a questo livello e cominciamo a sentire che la mano diventa rigida, ebbè non dobbiamo fare braccio di ferro. Dobbiamo rispettarlo. Lavoreremo in un rango di movimento dove è possibile lavorare senza la comparsa dell'elemento della patologia. Poi tanto ci accorgeremo che se il terapista è molto delicato, si muove leggermente e il paziente porta attenzione, cominciamo a sentire che la muscolatura dell'avambraccio e i flessori delle dita cominciano a cedere e allora noi possiamo anche offrirgli una posizione in più. Ecco, questo qui è un esercizio molto semplice di riconoscimento di posizioni per il polso. Chiaramente, signori, poi magari qualcuno me lo ricorda pure. Eh, vabbè, ma questi sono esercizi molto elementari. Adesso la riabilitazione neurocognitiva ha abbracciato nuove frontiere come l'esperienza cosciente, come la possibilità di accedere al linguaggio del paziente, come la possibilità di interagire sull'azione, sulle esperienze prelesionali, sulla bimanualità. Sono estremamente d'accordo. Sono d'accordissimo che quella che sto facendo è una brutalizzazione, però è una democratizzazione. Vi faccio un esempio. Ieri stavo in una riunione con altri sciroccati, personaggi veramente fuori di testa, però che si occupano della, si chiama visionari, l'organizzazione, si occupano della condivisione dello sviluppo delle tecnologie, l'utilizzo consapevole delle tecnologie per migliorare la condizione dell'essere umano. Quindi una mission proprio piccolina. E c'era un grande esperto del Ministero della Difesa che parlava della blockchain, che è una tecnologia sulla quale si basano le criptovalute, ma sulla quale si basano tanti altri sistemi di condivisione di dati. Ora non vi sto a parlare di questo aspetto di cui non sono assolutamente competente, ma questo personaggio che cosa diceva? Diceva sì sì, tutto giusto, aumentiamo la tecnologia, va bene, però le persone poi sono preparate a questa tecnologia. Cioè le persone poi sono il collo di bottiglia. Se adesso anche per fare un collegamento alle poste, che non riescono ad accedere allo speed, ma come possiamo pensare poi di dargli degli strumenti tecnologicamente più avanzati se la base non maneggia questa tecnologia. E io vi dico la stessa cosa con la riabilitazione neurocognitiva. Io sono contentissimo dello sviluppo, voglio partecipare allo sviluppo, delle conoscenze, dello studio, però la base delle persone deve cominciare a comprendere la riabilitazione neurocognitiva. Dalla base deve essere un processo che dal basso va verso l'alto, perché dall'alto verso il basso sarà molto difficile poter cambiare le cose, anche a livello istituzionale. Deve essere una richiesta che nasce dal basso. Tante volte a me mi capitano delle cose che mi fanno capire che anche tutte queste lotte che faccio con le persone che cercano di trattenermi in questo processo di divulgazione, stanno andando nella direzione corretta. Qualche clinica mi chiama e mi dice guarda ci siamo stufati di sentirci dire che vogliono fare il metodo perfetto, la riabilitazione neurocognitiva, perché hanno sentito da sarmati che devono fare questi esercizi, ma noi non ce l'abbiamo i terapisti che sono formati in questa direzione. Facciamo un corso. Beh, io quando sento queste cose quasi mi ricrescono i capelli e quasi mi ridiventano tutti neri, i peli della barba che stanno crescendo anche bianchi in quelle zone lì. Perché vedo che c'è un senso in tutto questo. Quando sono le persone a spingere, allora cambiano anche le istituzioni. E quindi sì, sarà un esercizio semplice, però intanto fatelo perché è meglio di farsi strapazzare la mano come se fosse una lattina di tonno, no? Ok, questa qui ovviamente è rivolta a chi mi ama. Allora, vediamo un po' qualche altro commento. Edvige, Edvige, l'hai sentita la risposta a quella domanda dell'altra volta? Ti è arrivato il messaggio chiaro rispetto al discorso dell'intervento? Penso di sì, non è che mi sono risparmiato più di tanto. Spero di non essere stato anche troppo duro. Ne abbiamo fatti tanti esercizi con i regoli, ma nessun frutto. Ma sei sicura, Edvige? Che tu mi dici nessun frutto? Guarda, l'altro giorno stavo insegnando un esercizio a un'altra paziente. Allora, per insegnarlo mi è uscito fuori un video tuo e di Marcello. E c'era Marcello che stava lavorando sul carrellino e stava facendo il movimento di estensione della mano, del braccio. E gli stavo sottolineando quanto fosse bravo Marcello a fare questo movimento di distensione senza coinvolgere la mano. Ora, se tu ti ricordi bene, quando aveva iniziato Marcello faceva il movimento, la mano si incaprettava tutta, si rigidiva, per dire un termine molto più tecnico. E quello è anche il frutto di tanti esercizi che avete fatto come questi. Quando avevamo lavorato qui, se tutti ricordi, eravamo arrivati a un punto in cui Marcello stava iniziando a singolarizzare il movimento delle dita. Ora, poi, chiaramente, il lavoro a cui siete stati sottoposti è un lavoro titanico, di difficile accettazione, di difficile digestione. Perché per raggiungere un centesimo di recupero uno doveva mettere in ballo una tonnellata di lavoro? E Marcello ce l'ha sempre messa questa tonnellata di lavoro, anzi è sempre stato un esempio di lavoro anche fatto da solo. Quindi non sono proprio d'accordo quando tu dici nessun frutto. Perché i frutti io li ho visti dall'inizio in cui abbiamo lavorato su un braccio che era praticamente inerte, senza nessuna possibilità da parte di Marcello di poterci interagire. Anche dopo tre anni dalla lesione, perché da quando abbiamo iniziato a lavorare erano passati già tre anni. Allora, Daniela li preferisco sicuramente a quando mi mettevo nei sacchetti di sabbia sulle mani per non farle rattrappire. Ah beh, i sacchetti no, mi mancavano, Daniela. Questa è una nuova soluzione. Deambulazione laterale, Leonardo. Ma c'è una domanda, Leonardo? O così, un pensiero in generale? Deambulazione laterale. Però devo dirti una cosa, mi accendi comunque una risposta, no? È vero che noi spesso, terapisti, insegniamo al paziente a camminare dritto, in avanti e non in altre direzioni. Mentre in realtà quasi la maggior parte dei passi che facciamo durante la giornata, soprattutto adesso che siamo in casa, che siamo reclusi in casa, udite, udite, è all'indietro, non è in avanti. Perché? Perché se noi dobbiamo camminare, poi torniamo indietro, cambiamo direzione, prendiamo la sedia, facciamo tutti questi movimenti. Sai quanti passi all'indietro facciamo? O quanti passi laterale facciamo? Quindi è giusto che dobbiamo lavorare su tantissime direzioni del movimento. E mi accendi anche un esercizio pratico, così avevo promesso che questa seduta, questo live sarebbe stato in qualche modo pratico. E allora, vediamo un attimo di vedere un esercizio insieme. Allora, ai colleghi però, gli faccio prima una domanda, facciamo un test. Allora, disegniamo un piede. Questa è l'impronta ad un piede. Benissimo. Allora, la domanda che voglio fare ai colleghi che faccio spesso, soprattutto nei corsi, è quella di disegnare la linea di carico, no? Nel momento in cui il paziente si trova, il soggetto si trova a camminare. Che significa linea di carico? Guardate un po'. Allora, quando noi ci troviamo qui a camminare, vediamo un po' se troviamo qualcuno che carica. Eccolo qui, qui. Quando noi abbiamo caricato, abbiamo caricato, che linea si sta disegnando sulla base del piede? Allora ci stanno pazienti che, sì, pazienti, terapisti che disegnano questa linea, per esempio. Ah, secondo me la linea è centrale. Bene. Allora, quando gli faccio disegnare la linea sulla lavagna, poi lo metto un attimo da parte. Poi c'è un altro, e c'è qualche terapista, ho visto collegato, che ha subito questa tortura. Poi c'è qualcun altro che mi disegna questo, verso l'alluce. In realtà, qual è la linea di carico durante il passo? La linea di carico è questa, guardate. Va verso l'esterno all'inizio, poi curva lungo i metatarsi, e poi ovviamente l'ultimo punto a contatto con il suolo è la punta dell'alluce. Quindi, ma pensateci un po' pure alla forma del piede, no? Perché ha questa forma? Perché deve accogliere un movimento laterale. Quando noi camminiamo, allora noi che cosa abbiamo? Brutto disegno adesso. Che cosa abbiamo? Abbiamo dei movimenti del fianco che sono anche laterali, un po' come quello che succede alle modelle, in maniera non così evidente, però succede. Allora facciamo questo esercizio. Mettiamo il paziente, si sta scaricando il cellulare nel frattempo però. Allora, mettiamo il paziente in piedi, con il piede plegico avanti. Allora, intorno al piede mettiamoci dei regoli. Quindi mettiamo un regolo qui, davanti al quinto dito. Un regolo lo mettiamo qui, che è proprio in direzione del carico corretto. Un altro regolo lo mettiamo qua. Un altro regolo lo mettiamo qui, sull'alluce. Un altro lo possiamo mettere proprio all'interno e un altro molto all'esterno. Poi che cosa facciamo? Poi andiamo ad abbracciare i fianchi del paziente. Ecco qua. Abbracciamo i fianchi del paziente e gli promuoviamo il movimento nelle diverse direzioni, prendendo come punto di riferimento l'anca. Andiamo a muovere l'anca in direzione di uno di questi regoli. Poi, chiaramente, ad ogni regolo possiamo dargli un numero. Possiamo dirgli, guarda, questo qui è l'1, questo è il 2, questo è il 3 e questo qui è il 4 e questo qui è il 5. Allora, in che direzione ti ho portato? Ecco, questo qui potrebbe essere un modo per aiutare il paziente a prendere consapevolezza della direzione del carico durante il passo. Allora, sto litigando col cellulare perché c'è il cavo corto. Allora, vediamo se riesco a leggere qualche altra domanda. Nel frattempo, visto che siamo andati un po' oltre al tempo che avevamo a disposizione, che era di un'oretta, quella che avevo preventivato, perché sennò diventa come la corazzata Potionkin di Fantozzi, no? Un po' troppo lunga. Poi, mi dispiace per quelli a cui non sono riuscito a dare risposta. Rispondo all'ultima, però. Anna Maria ci dice, ho una domanda, come si fa a guarire dal neglet? Anna Maria, innanzitutto dovremmo capire che cos'è il neglet. E poi è più facile capire quali sono le attività che servono per, intanto, migliorare dall'eminegligenza e poi uscirne fuori. Allora, innanzitutto il neglet non è, come siamo abituati a pensare, un disturbo della vista, ovvero un disturbo di non riuscire a vedere quello che succede sulla sinistra. È il disturbo più evidente perché, chiaramente, tu dai da mangiare al paziente e ti mangia solo quello che sta sulla destra del piatto. E quello che sta a sinistra basta che giri il piatto e se lo mangia dopo. È la cosa che dà più fastidio, no, in casa. Però ci dobbiamo rendere conto che il neglet è una difficoltà di processare le informazioni che provengono dal mondo di sinistra. Quando dico informazioni non parlo solo di informazioni visive, parlo anche di informazioni acustiche, ma anche di informazioni somestesiche. Tante volte, quando andiamo a trovare il paziente in stanza, sta lì dentro, tu entri e fai Giacomo, buongiorno! Non è che solo non t'ha visto, non si è girato perché non ti si è affilato in maniera anche generale, anche dal punto di vista acustico. Poi vai lì da Giacomo e gli fai fare un esercizio anche semplice, no, di riconoscimento se gli stai muovendo la spalla o se gli stai muovendo il polso e non riesci a fartelo. Perché? Perché è proprio difficile portare attenzione sulla parte sinistra del corpo. Allora io ti dico che in genere, dopo un paio di mesi, il problema del neglet, delle informazioni visive, il paziente lo supera. Perché lo supera? Perché in famiglia gli facciamo due scatole tante, no? Guarda a sinistra, controlla bene, prima di dire che hai finito da mangiare. Allora il paziente, anche dal punto di vista logico, razionale, impara che deve costringersi a esplorare di più sulla sinistra e quello lo supera dopo un paio di mesi. Quando vedo pazienti che mi dicono che dopo un anno hanno ancora il neglet dal punto di vista visivo, è un po' preoccupante perché significa che non c'è stata proprio una stimolazione di base, anche dalle piccole cose, anche solo mettere la televisione alla sinistra del letto, stupidaggini, oppure non metterci il muro, ecco cosette di questo tipo. Comunque dopo un paio di mesi in genere il neglet visivo sfuma, anche perché il paziente impara. Quello che rimane però è il neglet nei confronti del corpo. E come si fa a guarire? Gli devi offrire delle esperienze dove, con attenzione, il paziente deve percepire, deve ricostruire le informazioni provenienti da sinistra. Capisci? Non possiamo pensare che una paziente guarisca dal neglet se non gli offriamo delle esperienze di allenamento su tutte le informazioni che provengono da sinistra. Ma non solo costringendola a guardare Maria De Filippi sempre sulla sinistra, perché forse mi verrebbe il neglet pure a me se mi metti di Maria De Filippi sulla sinistra. Ciao Maria! Però offrirle anche delle informazioni interne al corpo. Quindi fagli chiudere gli occhi. Chiargli un esercizio semplice e vi chiudo con questo esercizio. Con gli occhi chiusi muovigli la spalla o muovigli il polso? E chiargli che ti sto muovendo, la spalla o il polso? Quando diventa bravo, mettici pure il gomito di mezzo. Che ti sto muovendo? Ecco, questo qui è già un esercizio che costringe il paziente a costruire informazioni con il proprio lato sinistro del corpo. Allora signori, io vi auguro una buona quarantena. Spero che questi esercizi che vi abbia dato in qualche modo vi facciano passare alcune ore in compagnia dei vostri familiari conoscendo una riabilitazione che magari non conoscevate e che sia magari conoscendo delle cose del vostro corpo che ancora prima non conoscevate. Vi abbraccio tutti e un bacio. Ciao!